All'Olimpico la Lazio deve battere il Catania per tornare a meno uno dal Milano, occasione ghiottissima per la squadra di Reia che prova subito con questo sinistro di floccari, la risposta di Anducara, partita importante per il portiere della Catania. Nel finale di primo tempo, 44esimo, calcio d'angolo di Giamma, il parone secondo palo, Svetta Silvestre, il gol del vantaggio immeritato dopo il buonissimo primo tempo dei Laziali, terza rete in Serie A per il difensore centrale della Catania, ma la Lazio pochi minuti dopo nel recupero va con il destro di Hernanes, palla fila di palo per il Profeta che trova la terza rete nella sua carriera nel nostro massimo campionato. Poi spettacolo Zarate per la ripresa, questo è l'emblema del suo secondo tempo, scarta praticamente tutti, pallonetto, risposta bellissima di Anducara, finisce 1-1 all'Olimpico fra Lazio e Catania, occasione sprecata per gli uomini di Reia.